Buonasera a tutti, il compito importante è parlare di uno scenario digitale in un mondo in cui ormai il digitale è diventato l'argomento centrale, l'argomento centrale per tutte le aziende, ormai non c'è piano industriale che non tenga conto della trasformazione digitale come elemento centrale e ovviamente come consumatori noi siamo fortemente, come si dice, ingaggiati in questo tema trasformativo. Allora per affrontare il tema della trasformazione digitale credo che il modo migliore per affrontarlo, per vederlo sia innanzitutto definire quali sono gli elementi a perimetro di questa trasformazione, il secondo tema è capire quali sono gli elementi o meglio le leve su cui si può incidere come operatori, come aziende, come gestori nell'accelerare questa trasformazione nella misura in cui porta dei benefici e il terzo tema è quello lasciato ai miei colleghi delle differenti industrie, per capire quali possono essere le diverse soluzioni, le diverse indicazioni che ciascuna industria prende. E quindi stiamo sul primo tema della trasformazione digitale, quali sono i termini? Beh i termini sono dei termini in fortissima evoluzione, credo che per la prima volta stiamo vivendo una rivoluzione industriale in cui il cambiamento lo si, come dire, verifica, monitora anno su anno. Ci sono delle componenti che conosciamo adesso senza la pretesa di affrontare in maniera esaustiva, dico dal digital marketing, alla realtà aumentata, all'e-commerce, alla cyber security, al crowdsourcing, al crowdfunding, tutti elementi che entrano in sequenza uno dopo l'altro per arrivare al 3D printing, per arrivare ai temi più attuali come la sharing economy. Tutti elementi che cambiano in maniera molto veloce e che impattano fortemente il nostro modo di operare come aziende, il nostro modo di operare come professionisti e il nostro modo di beneficiarne come consumatori. Si pensi alla sharing economy, un tema che viene sempre visto, come dire, più legato al mondo del consumatore, le aziende, quelle in cambio, quelle più di tipo tradizionale, si pongono un po' la domanda e qualcosa che ci riguarda o non ci riguarda. Allora, per toccare questo argomento, sharing economy è qualcosa che impatta molto profondamente, per esempio, le tre industrie che vedremo, diciamo, i rappresentanti delle tre industrie che vedremo successivamente. Nelle utility possiamo immaginarci la produzione dell'energia diffusa, uno dei grandi concetti e grandi direzioni su cui si sta andando. Nel mondo delle telco, l'idea che ci siano delle community di Wi-Fi che stanno partendo in maniera importante in questo momento, fa parte di questo concetto di sharing economy e poi anche nel mondo, diciamo, assicurativo, sempre di più sono le soluzioni che abbinano modelli di sharing economy alla copertura assicurativa. Si pensi, per esempio, a Airbnb, in cui si ospitano le persone che non conosciamo o per le quali, come abbiamo dei temi di tutela, ci sono polizze assicurative che, come dire, vengono abbinate a questo mondo dei social media. La stessa cosa succede per le comunità dei trasporti, blablacarra, l'idea è che si sono sviluppate delle soluzioni assicurative per chi si trova a portare dei passeggeri, dei compagni di viaggio che non conosce. E quindi, diciamo, queste intersezioni della digital transformation sono assolutamente centrali e importanti per tutte le industrie. Al centro, come sempre, il ragionamento è quello di un consumatore connesso, inutile spendere numeri e dati, basti dire che è un numero. Insomma, da qui al 2020 ci immaginiamo che ci siano 6 miliardi di telefoni mobili che rappresenteranno la principale fonte di connessione ad internet. Quindi stiamo parlando di una popolazione mondiale totalmente connessa. Consumatore connesso, che è molto consapevole, che si muove con modelli differenti, che ama la like economy, quindi si fida più del parere di chi ha avuto l'esperienza, che segue la cosiddetta lunga coda, quindi vuole poter beneficiare di una molteplicità di scelte e questa diventa un'opportunità per le aziende. E poi temi di assimetria informativa superati da un cliente sempre più preparato. Quindi ci troviamo di fronte a un consumatore che sicuramente beneficia di questa trasformazione digitale. Ma lato aziende, cos'è che si può fare per, viceversa, prendere beneficio di questa trasformazione. E probabilmente il punto di osservazione dell'azienda è quello che vede tre differenti direzioni. Allora, la prima di queste direzioni è quella dei nuovi ecosistemi. Cioè l'idea che l'azienda non sia più riferita solo ai propri canali proprietari tradizionali, che siano canali web, che siano call center, che siano canali distributivi fisici. Oggi la grande azienda può prendere beneficio, per esempio, come citavo prima, dei social media. Quindi vedere un ecosistema aperto come parte della propria attività aziendale. E questa è la prima direzione, quella degli ecosistemi. La seconda direzione è quella delle nuove catene del valore. La produzione cambia, l'innovazione va a un ritmo molto veloce. Sempre di più è importante integrare dati interni con dati esterni. E' sempre più importante avere dei processi che si adattano in maniera dinamica. Noi, diciamo di nuovo, da utenti e da consumatori, beneficiamo di promozioni, di prezzi dinamici. Tutte volte che facciamo una prenotazione, per esempio, nel mondo viaggi, si pensi che questi stessi modelli si applicano ormai alla quasi totalità dell'industria. L'idea è che attraverso una lettura del dato del consumatore si possa proporre qualcosa in maniera dinamica. E quindi una catena del valore dell'azienda che cambia. Quindi, da una parte ecosistemi, dall'altra catena del valore di tipo nuove e poi il terzo elemento, che credo che sia quello più interessante e più importante, che è un po', come dire, la sfida che gli operatori devono affrontare. Credo che di nuovo le tre aziende rappresentate, quindi il mondo degli utility, il mondo assicurativo, il mondo delle telco, debbano poter vedere insieme questa prospettiva. ed è quella dei cosiddetti contestable market, cioè i mercati convergenti. Sempre di più c'è una zona, diciamo, di mercati che non sono proprietà, se vogliamo, dei domini tradizionali. Quando parliamo, per esempio, di mercati di banca, oggi forse fa più senso parlare di pagamenti. Ma parlare di pagamenti non vuol dire solo riferirsi ai settori bancari tradizionali, vuol dire creare quella commistione di high tech, di over the top, di media company, che possono contribuire al mercato dei pagamenti. La stessa cosa la si può dire per il mercato dei trasporti. Non c'è più un mercato dei trasporti to-cour, c'è un mercato dei viaggi. Quando prenotiamo, vogliamo in qualche modo andare in mobilità, in realtà dietro al trasporto ci sono sistemi di booking, ci sono delle media company, ci sono delle telco, e quindi di nuovo il mercato è un mercato nuovo che viene indirizzato in maniera diversa. Lo stesso si dica per le assicurazioni. Non c'è più un mercato, o quantomeno la direzione, adesso vi sto dando un po' come dire lo scenario di tendenza, un mercato tradizionale e autoriferito delle assicurazioni, ma c'è sempre più un mercato della protezione. E quindi insieme alla copertura assicurativa si vorranno dare quegli elementi che in qualche modo anticipano l'insorgere del bisogno. E qua entra in maniera molto potente tutto il tema dell'Internet of Things, la domotica, la possibilità di, per esempio, riuscire a monitorare da casa dei comportamenti, dei disturbi, delle infiltrazioni o con dei sensori, quindi riuscire a prevenire il danno e in qualche modo avere la copertura assicurativa nel momento in cui dovesse accadere l'incidente, ma soprattutto lavorare sulla prevenzione. E quindi questo scenario dei mercati convergenti o contestable market è la grande direzione e la grande opportunità che si apre con i nuovi mercati digitali. Qualcosa di totalmente nuovo che richiede delle competenze, delle capacità e delle possibilità anche di dialogo fra le diverse aziende in maniera differente. Perché lo chiede il consumatore. Dietro a tutto questo movimento, di cui appunto credo solo di avervi dato qualche elemento per dare il senso, diciamo, della velocità, delle cose con cui accadono, in realtà ci sono dei punti d'ingresso molto precisi, delle aree ben circostanziate che incidono su questa trasformazione digitale e che sono delle aree di creazione di valore. Allora, noi su questo mondo, come Accenture, con Oxford Economics, ci siamo concentrati nel provare a studiare la relazione fra le leve digitali e il valore creato nel GDP, nel PIL. E quello che è emerso è che si può stabilire una forte correlazione fra l'intensità di presenza digitale nelle aree dell'economia e il beneficio che ne traiamo come economia nel suo complesso. Questo è un elemento molto importante perché ovviamente ci spinge a vedere al digitale non solo come un tema di reazione a quella che è la sollecitazione delle tecnologie da una parte e del consumatore dall'altra, ma come una fonte di generazione di valore. E queste quattro aree che abbiamo individuato per le quali abbiamo stabilito una connessione fra densità digitale e creazione di valore sono la prima di queste aree quella legata alle infrastrutture, alla disponibilità delle istituzioni, del governo, alla facilità con cui il digitale è reso possibile o attraverso incentivi o attraverso politiche economiche appropriate. La seconda direzione è quella dell'approvvigionamento diciamo delle fonti produttive quindi il modo in cui per esempio andiamo a ricercare i talenti sul mercato, andiamo a ricercarli digitalmente o facciamo processi di ricerca tipo tradizionali o il modo in cui andiamo per esempio a ricercare gli investimenti quindi il cosiddetto crowdfunding. Ecco, questo è l'altro elemento importante che contribuisce alla formazione di valore. La terza dimensione è quella attraverso la quale il digitale è presente nelle aziende quindi come cambiano i processi digitalmente e l'ultima che è il tema di questa nostra sessione è come i mercati sono intensamente e intrinsecamente digitali. Cosa vuol dire? Quanto il consumatore è disposto a operare digitalmente, quanto le aziende reagiscono in questa direzione e quanto le aziende collaborano fra di loro. Dicevo prima che il tema della collaborazione è un tema assolutamente centrale. Ecco, da questo studio molto importante che abbiamo condotto su 17 paesi e 9 differenti industrie quindi 9 differenti settori ahimè, mi viene da dire quello che emerge è che l'Italia è un po' il fanalino di coda su quasi tutte le dimensioni fatemi dire. In particolare su questa di cui andiamo a parlare making markets ossia quanto il mercato è pervaso da digitalizzazione quanto i consumatori interagiscono digitalmente l'Italia si pone veramente diciamo in una posizione di coda comparata invece se stiamo sul mercato europeo ai paesi nordici che sono viceversa molto più evoluti. Ecco, quindi in questo contesto la domanda è se siamo digitalmente meno intensi e l'intensità digitale è un elemento di crescita quali sono le soluzioni o quali sono le direzioni che stiamo prendendo come aziende e come settori. Non anticipo quello che è come dire il pensiero personale credo che sia importante sentire quello che è il punto di vista di diverse industrie. Mi viene da dire che ci sono sicuramente tre elementi che però sono comuni un po' a tutti. Il primo è quello che dicevo prima di lavorare sempre più in una logica di mercati convergenti quindi guardare la possibilità di collaborazione fra settori differenti la telematica per esempio è uno spazio di grandissima opportunità e solo lavorando insieme i vari settori possono sfruttarlo ne sia l'esempio il mondo dell'auto connessa della connected car connettere un'auto ed è qualcosa che stiamo sviluppando sul mercato permette di raccogliere dei dati questi dati sono fruibili da parte del carmaker quindi dal produttore dell'automobile da parte delle assicurazioni da parte delle banche che possono abilitare dei sistemi di pagamento da parte del retailing che può offrire dei coupon a chi in una certa tratta diciamo sta andando su una certa tratta automobilistica e quindi questa è sicuramente una prima direzione una seconda direzione è viceversa legata al tema dell'innovazione come riuscire a sfruttare questa onda innovativa che va molto veloce e quindi la domanda è come l'azienda può produrre innovazione con grandissima rapidità detto che il mercato va più veloce della capacità di sviluppo interno e il terzo tema è un concetto se vogliamo abbastanza dirompente che è il tema della condivisione del cliente iniziare a pensare che in mercati convergenti in cui il cliente sempre più ha bisogno di risolvere un bisogno nella sua interezza quindi il bisogno della mobilità e non solo il bisogno dell'auto il bisogno della gestione della casa e non solo la casa riuscire a condividere il cliente attraverso l'utilizzo delle informazioni diventa un elemento importante vi ringrazio grazie